PAMELA PRATI Come ha sottolineato a Storie Italiane, tuttavia, Bertolani si augura che Pamela Prati, una donna che ha amato davvero e con cui ha trascorso tre anni bellissimi, abbia trovato l'amore vero della sua vita e che sia felice. Dopo anni dalla fine della oro storia d'amore, dunque, Bertolani è tornato a parlare di Pamela Prati, ma non avvieni da me, aggiornamento di Stella di Benedetto. Le nozze di Pamela Prati Mark sbaglia.Il matrimonio di Pamela Prati è vero o è tutta una montatura? Mentre si continua a discutere di questo mistero, l'ex fidanzato Max Bertolani ha parlato di lei nel corso dell'intervista rilasciata al programma Storie Italiane. Max ha parlato della sua storia d'amore con Pamela Prati ma si è soffermato anche sulle imminenti nozze con Mark Caltagirone. In merito al mistero di questi mesi, Bertolani ha ammesso di essere contento per Pamela e di credere alla sua versione dei fatti, anche se, a suo dire, sarebbe stata mal supportata dalle persone che le stanno intorno, le sue manager, e dal suo compagno Mark Caltagirone. Secondo Max, infatti, il fidanzato della Prati dovrebbe, per amore, mostrarsi in pubblico eliminando ogni dubbio e non pensare alla sua voglia di anonimato. Aggiornamento di Anna Montesano. . Max Bertolani torna a parlare di Pamela Prati. Max Bertolani, dopo essere stato ospite di Storie Italiane, torna in tv come ospite della puntata odierna di Vieni da me. Dopo aver ascoltato i ricordi di Marco Carta, Caterina Balivo accoglie nel proprio salotto Max Bertolani e mamma Nadia che raccontano dettagli della loro vita privata svelando anche dettagli inediti. Sorridente e in perfetta forma, Bertolani è pronto a svelare i segreti del suo rapporto con mamma Nadia, ma anche a ripercorrere quella che è stata la sua carriera e la sua vita amorosa. Il nome di Max Bertolani è legato soprattutto a Pamela Prati con cui ha vissuto un'importante storia d'amore. Ai microfoni di Caterina Balivo, dunque, l'ex fidanzato della Prati svelerà i retroscena della loro storia, finita ormai da tempo. Il pubblico di Rayuno è pronto ad ascoltare anche i racconti di mamma Nadia. Max Bertolani avvieni da me, nuove rivelazioni sulla sua storia con Pamela Prati. La storia d'amore di Max Bertolani e Pamela Prati è durata diverso tempo, ma è tornata alla ribalta per l'imminente matrimonio della showgirl con Marco Caltagirone. Ai microfoni di Storie Italiane, Bertolani, parlando di Pamela Prati, ha ricordato gli anni vissuti con lei, usando parole davvero positive, sono stati tre anni fantastici. E' allegra, simpatica. Amava i cagnolini ed aiutare il prossimo. E' generosa, altruista. Volevo creare una famiglia, dei figli. Evidentemente era una cosa che volevo solo io. Ci ho messo due anni per dimenticarla. Non riuscivo a intraprendere altre storie. Avevo in mente solo lei. E' stata una bella cicatrice. Oggi fa male ancora. E' una sconfitta. Io amavo quella donna. Tante situazioni esterne hanno influito.